E' uscito sconfitto e umiliato il Napoli di Mazzarri con un perentorio 5-0 nella 46esima edizione del trofeo Gamper. Per gli azzurri la sfida contro il Barcellona era considerata una sorta di prova generale in vista dell'imminente Champions League. Della partita giocata ieri nello stadio della squadra più forte del mondo resta il fascino sportivo, ma sfuma la gloria per i giocatori del Napoli, che ad impensierire Messi e compagni ci hanno pure provato. Nei primi 20 minuti, se ci si mette lo straordinario gol annullato a Cavani e uno spunto del pocio, il Napoli qualcosina aveva fatto vedere. Poi il nulla. Ai tifosi azzurri però va bene così. Napoli è una squadra, secondo me, che potrebbe nel tempo diventare come il Barca. Penso che il presidente sia proprio su questa strada. Speriamo bene. Speriamo che prendiamo esperienze da questo partito. Questo è il lato positivo. La squadra del Napoli la vede pronta per il prossimo campionato? Sì, la vedo pronta, però secondo me manca un qualcosa. Cosa? Non so spiegarmi, però manca un qualcosa. Mi so spiegarmi. È incompleto, va. Ieri si è visto nei primi 20 minuti un buon Napoli. Poi dopo ho la stanchezza, ho pure la demoralizzazione, quindi è sceso di tono. Però io credo che Napoli quest'anno faccia un buon campionato. Di Vario però si vedeva la differenza, che c'era il Barcellona e poi il Napoli e si notava comunque la differenza. Mi sono visto la partita insieme a un amico e ne ho approfittato. comunque ha giocato abbastanza bene. Peccato che quel gol di Cavani, che poteva anche sorvolare l'abito, però l'ha annullato purtroppo.